Allora, attenzione, cosa dovrà fare? L'avrete capito? Farò così, così deve essere la presunzione che ce l'avete, avrete tipo benicio e ce l'avete, scusa, è grande il gioco ci vuole, perché c'è una piccola blu ci vuole. Allora, questo è il verticale, come ve lo dico io, questo si chiama il gioco dello stupa, lo stupa lavandini, la donna con quel cecchietto cosa del mare, deve fare caniscio, deve fare centro, beccare il centro, la prima coppia che becca centro vince un viaggio per due persone, ve lo dico io, attenzione, fermi, fermi, vi lo dico io, fermi, fermi, attenzione, 3, 2, 1, vai! No, io, 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 alla prima coppia! Un applauso, lo facciamo alla prima coppia, bellissimo, che al primo corpo, lei si chiama? Io si chiama, lei si chiama, lei si chiama, è lui? Simone. Simone, è serena, SS. SS. Cosa hanno visto questa persona da fare? Pagato, va bene! A piedi e pavoloni alla capina! A piedi, va bene, guarda, il pellegrinaggio, un applauso e ce lo facciamo, vai! Bravissimi! Torniamo a queste stupate! Grazie.